Terrore nei cieli a Corropoli, in provincia di Teramo. Nel primo pomeriggio di oggi un aereo ultraleggero è precipitato in località Brenta. A bordo due persone di nazionalità tedesca, di 51 e 57 anni, che sono stati trasportati nell'isoccorso agli ospedali di Pescara e Teramo, dove sono ricoverati in codice rosso. I due hanno riportato traumi e fratture e sarebbero in gravi condizioni. In ospedale uno dei feriti avrebbe subito l'amputazione di una gamba e di un piede. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire l'accaduto e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta. Come appurato, il biposto ha avuto problemi tecnici nella fase di decollo dall'Avioclub Val Vibrata, ha perso quota e si è schiantato al suolo, dove i due a bordo sono rimasti incastrati tra i rottami fino all'intervento dei vigili del fuoco. Il velivolo è andato distrutto, ma come si vede nelle immagini fornite da City Rumor, fortunatamente non ha preso fuoco. Grazie. 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 Grazie.